Il Vangelo di questa domenica tratta qualcosa che tutti proviamo nella vita, ovvero il fallimento. Ognuno di noi, in ambiti differenti, durante il cammino della vita, viviamo questa fatica di sentirci il mondo crollare addosso. Ci sono fallimenti lavorativi, fallimenti sentimentali, fallimenti spirituali, fallimenti relazionali. Gesù oggi vede profilarsi per sé stesso due grandi fallimenti. Il primo, la sua fine terribile, tradito e messo a morte. E il secondo fallimento, il defilarsi di alcuni discepoli davanti a questa situazione difficilissima. Un disorientamento che porta Gesù a parlare in modo diretto e senza fronzoli. E ad alcuni discepoli a quel punto di prendere la decisione di non seguirlo più, non trovando la forza di seguirlo. Infatti la prima frase che troviamo nel Vangelo di oggi, che esce dalle labbra di Gesù, è questa. Questa parola è dura. Cioè, le parole di Gesù sono dure come pietre, a volte, e non sono sempre carezze all'anima. L'immagine di un Gesù, peace and love, è irreale ed è inutile per la nostra fede. Pensate alle parole di Gesù dette al giovane ricco, vendi quello che hai e seguimi. Ma pensate a Gesù quando si rivolge a Marta, che chiedeva che sua sorella l'aiutasse. Gesù gli dice, Marta, Marta, tu pensi solo al fare. Tua sorella ha scelto la parte migliore e non gli verrà tolta. Ma pensate anche a frasi del Vangelo, molto dure, molto taglienti, incisive, tipo Chi non porta la propria croce non è mio discepolo. Gesù non ha mai voluto dire le cose solo per il quieto vivere o per mediare le situazioni. Gesù certo era misericordioso, ma molto fermo sulle sue parole. La durezza di Gesù è per dare una sveglia alla vita dei Suoi discepoli e alla nostra oggi. Bisogna avere il coraggio di dire la verità, certo, con la giusta paternità. Quella appunto di Gesù. Però quella di Gesù, della Chiesa, è non la propria sensibilità di dire le cose magari solo per far piacere agli altri o a se stessi. A volte cerchiamo di modellare la verità a nostro piacimento. Allora passiamo da un lassismo imbarazzante, dove tutto va bene secondo il proprio gusto, oppure arrivando all'altro estremo che è un rigorismo ingessante solo fare e vivere la Chiesa e la fede secondo riti enorme. Le parole di Gesù invece sono la verità sulla nostra vita, sulla nostra fede, anche quelle scomode che non vorremmo ascoltare, che non vorremmo che Gesù ci rivolga a noi. Ma la durezza delle parole di Gesù è in proporzione alla durezza del nostro cuore. Se la parola di Dio ci dà fastidio, allora vuol dire che fa bene alla nostra vita. Se la parola di Dio invece ci scivola addosso, è segno che non vogliamo lasciarci convertire, lasciarci cambiare dalla parola di Dio. Più il nostro cuore è duro e più troveremo irritante, anche a volte irrispettosa, della nostra ribeltà, della nostra dignità, della nostra vita, la parola di Dio. Invece più il nostro cuore è accogliente e più troveremo forza nella sua parola. Questa frase, la prima frase di Gesù, cioè questa parola è dura, è rivolta ai discepoli, ma anche a ognuno di noi. Gesù non può essere visto solo come l'amicone che ci viene dietro e cerca sempre di assecondare le nostre volontà. No, Gesù ci parla in modo diretto perché ama la nostra vita. Allora a noi di ascoltarlo o di strumentalizzarlo. A noi prendere le sue parole come vere o come qualcosa di obsoleto, vecchio? A noi essere docili a Dio o di pensare già di sapere tutto di Dio? Dopo questa frase però ce n'è una ancora più dura. Gesù si rivolge ai discepoli così. Forse volete andarvene via anche voi? Gesù capisce il disorientamento dei discepoli e non li obbliga a seguirlo. Dio propone sempre e non impone mai. È una domanda libera che però esige una risposta vera. Non si può essere oggi in modo particolare cristiani a metà, cristiani tiepidi. A nessuno di noi piacciono le cose anacquate. E allora anche nella fede bisogna decidersi seriamente. Nonostante la nostra fragilità, il nostro peccato, le nostre debolezze. Ma questo non deve esimerci dal testimoniare la nostra fede. Anche in modo coraggioso, autentico, audace. Gesù ci porta a interrogarci nel nostro intimo, nel nostro spirito. Con una domanda. Cosa desideri davvero? Dove va il tuo cuore? Devi scegliere nella vita e non rimanere sempre davanti a un bivio. Vogliamo andarcene dalla Chiesa perché non è come vogliamo? Oppure crediamo di saperne di più? In fatto di morale, di fede, di catechismo, di liturgia, rispetto a tanti teologi, cardinali, vescovi e anche forse il Papa? Preferiamo una fede comoda? Oppure una fede che parla al cuore, che ci tocca la vita? Allora ecco che Pietro, il primo dei suoi discepoli, gli risponde così a Gesù. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Grande Pietro. Bellissima risposta. E impeccabile professione di fede. Guardate com'è bella la sua frase. Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo. Cioè Dio solo è il faro di Pietro. Non altro. E per noi, chi è il faro della nostra vita? Dio? Il Signore Gesù Cristo? Oppure altro? E poi tu solo hai parole. Perché Dio parla. Ma spesso non lo ascoltiamo. Dobbiamo essere più vicini alla parola di Dio. Ma, ecco come dice Pietro, tu solo hai parole di cosa? Di vita eterna. Parole che non possono morire. Che non sono morte per duemila anni. Ciò vuol dire che sono vive oggi, nel 2021. In questo agosto 2021, la parola di Dio è viva per la tua vita. Ecco che grazie al Vangelo di oggi scopriamo la libertà interiore. Perché Gesù è il prototipo dell'uomo, libero per eccellenza. Infatti, non elemosina affetto o compiacenza. Ma dice le cose in faccia, nella verità. Non ha paura di perdere consensi. E allora dice ciò che ci conduce alla pienezza della vita. Gesù non negozia per il quieto vivere. Perché vuole relazioni vere. Il Vangelo è sempre straordinario. Ma, se lo capiamo e ci entriamo dentro, vedremo che il Vangelo è estremamente esigente. E senza questa radicalità, purtroppo, rimane un libro. Scritti, nero su bianco, che non danno vita. Invece, se noi accogliamo il Vangelo, la parola di Dio, in modo vero e profondo, si incarna nella nostra vita. E a quel punto, trasformeremo la nostra vita in una vita veramente cristiana. Gesù ci chiede di metterci in gioco, nella vita e nella fede. Dobbiamo iniziare a credere nel Dio, in quello vero, quello che Gesù ci ha manifestato nella sua vita terrena. Un volto di Dio che non è inventato, ma un Dio che ci deve interrogare, provocare, fare vivere la vita. Una grande fede, un grande atto di amore e di onestà deve essere fatto all'ascolto del Vangelo di questa domenica. Cioè, lasciati provocare, lasciati interrogare, lasciati scuotere dalla parola di Dio, dal Vangelo, da quanto la Chiesa ci dice con la sua esperienza bimillenaria. Ricordati, le parole di Dio sono per farti vivere pienamente la vita e non per negarla, non per arrestarla, non per farla ridurre a solo delle norme e a dei divieti. Il Vangelo è segno di libertà, è segno di pienezza, è segno di vita vera. A te, dopo il Vangelo di questa domenica, accettare o meno la sfida di seguire Cristo, di ascoltare la sua parola e di metterla in pratica.